Siete degli incapaci, ti giuro, state 30 persone e 30 incapaci. Poi non so nemmeno se mamma ha capito come sta. Senti, com'è l'attore? No, poi non so neanche se ha capito che sono la regista. E' un po' tardi, domani devo lavorare. E poi ti fermi a dormire con me. Come ti chiami? Come ti chiamo? Purtroppo i valori sono peggiorati. Come stai? Un po' meglio? Mamma sta morendo. Sei stanca? E lavori troppo. Perché fa così? Perché apri un stifare qua. Che succede? E non ci vede. I can't see. Non mi piace per niente, è fintissimo. Stop! Everything is a stop. Stop! Grande regista. Grande, 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 eh? Sensibilità! Non ti va mai bene niente, Margherita? Non, formalmente. Non dovrebbe essere. Purtroppo questo è stato sempre il mio modo di lavorare. No, questo è il tuo modo di vivere, Margherita. Tu vivi così. Tutti pensano che io sia capace di capire quello che succede, ma io non capisco più niente. Sto, tu non direi stop! Non ti ricordi una sola battuta! I'm gonna go back! Back to reality! È che più invecchi e più pensano che tu sia scema. E invece capisci di più. Se ti facessero restare un po' di più, sarebbe una cura migliore. Lo sto. Io vado da lei, vado a trovarla. Ma non so mai cosa fare. Non so come aiutarla. Ma che stai pensando? A tu mani. è per favore. Grazie a tutti.